Ho pochissima forza, sono reparto in terapia intensiva a Piacenza, non pensavo di poter arrivare qui, non ho il vaccino e molti dei presenti qui non ce l'hanno, ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, è morta, vaccinatevi, ho sbagliato anch'io, non fatevi uccidere dalla malattia, vaccinatevi, scegliete il vaccino che meglio ritenete opportuno, avete di due tutti, quattro case farmaceutiche, vaccinatevi, non è uno scherzo, si muore, distrugge i pulmoni questa malattia, vaccinatevi, vi prego, vaccinatevi, non aspettate come aspettate e vaccinatevi, è un inferno. Grazie. 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 Grazie.